Siamo conosciuti e mi ha detto che non è vero che manca il lavoro, mancano le competenze che servono. Grazie. Buongiorno, sono Marino Lizza, Weak & Job. Noi ci candidiamo a dare una mano al funzionamento più efficace del mercato dell'anno, il conto è un domanda di effetti. Weak & Job è un portale di orientamento con centinaia di profili professionali descritti, contenuti multimediali, videointerviste a professionisti che raccontano il loro traiettore professionale, utility di auto-orientamento, contenuti editoriali quotidiani, manuali guida. Il nostro obiettivo è dare una mano a due famiglie critiche della società italiana che sono gli studenti che devono meglio scegliere il loro percorso formativo che li deve far anterrare in maniera efficace sul mercato dell'anno. E' chi cerca una prima occupazione o un altro, un teore, una nuova occupazione. A questo ora dobbiamo allargare lo specchio dell'opportunità e dobbiamo fargli misurare bene quello che hanno già nel bagaglio rispetto a quello che serve sul mercato dell'anno. Leggiamo il mercato del lavoro insieme a parte di cento con realtà importanti che dichiarano con noi di voler orientare il mercato della formazione e non è perso le competenze che a loro mancano, questo è il tema che dicevamo prima. Non è vero che non c'è lavoro o no, mancano addirittura le competenze, una grande fetta di domanda non viene vasta dalle competenze. Abbiamo sviluppato questo portale sulla base delle esperienze internazionali di successo da porta clamorose e vogliamo tentare di replicare la stessa modalità di creazione di valore per potenza. Cerchiamo parte degli industriali nella filiera, formazione, editoria specializzata, servizi per il lavoro o parte dei commerciali interessati ad un mercato paesiano quali quello dei giorni. Vi ho raccontato tutto, anche se voglio, ma per chi fosse appassionato di dettagli ci trovano allo stand A27. Grazie.